3 kg di eroina sequestrata dalla Guardia di Finanza di Padova ad un trasportatore albanese di 33 anni che è stato denunciato ed arrestato. Operazione De Baschi Verdi Padovani all'uscita del casello di Padova Ovest. Un'autovettura che stava uscendo dall'autostrada è stata fermata al posto di blocco. Dopo un'attenta perquisizione con l'aiuto anche delle unità cinofile è stata trovata la droga nascosta in un doppio fondo nel vano portabagagli ricavato all'interno della carrozzeria. Droga che era destinata alla piazza di spaccio della città. Il corriere è stato fermato ed arrestato. Durante un altro controllo del territorio le fiamme gialle hanno notato un'auto che alla vista delle forze dell'ordine ha velocemente cambiato direzione. Fermata la vettura e controllata sono stati trovati circa 17 grammi tra Ascis e marijuana. Nel corso delle ultime due settimane sono state controllate più di 100 persone delle quali 19 sono state segnalate alle prefetture competenti per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.